La violenza diretta nella politica sfociata nel terrorismo in Italia e in Europa negli anni 70 è stato questo il tema della seconda edizione della scuola di alta formazione promossa dall'Istoretto con il Comitato Resistenza e Costituzione. La scuola, diretta da Giovanni De Luna e Gianni Oliva, è rivolta a docenti della scuola di primo e secondo grado, operatori culturali, studenti universitari e cultori della materia.